Ciao a tutti doggy, io sono doggy color e oggi siamo qui con un sacco di fan e certamente con una mia amica che ragazzi non l'avete vista in tantissimi video perchè lei non gioca tantissimo ma gioca e quando magari giochiamo insieme non registro perchè vabbè facciamo le missioni pet ed è Clara, non vuol far sentire la voce ma magari in un giorno molto lontano la farà sentire ma un giorno molto lontano e lei è Chiara e Clara e lei è la mia amica appunto, non ci conosciamo nella vita reale quindi vabbè siamo in chiamata, lei mi sente e vabbè, Clara saluta, eccola qui, ok eccola, ciao allora, qui ci siamo con i fan, sai reg? Si, si sto reg allora sto reg e madonna ragazzi aiuto, non siamo tantissimi, meno male dico perchè sinceramente se siamo in troppi, uno la grafica viene un po' male, ecco e due siete in troppi poi ciao ragazzi, ciao allora, mi saluti, certo vi saluto allora vediamo un po' chi sono in questo server allora abbiamo Lorellas ciao Lorella, penso si chiami Lorella poi Ali, Ari, Bene, Giù Chiara, trattino basso, Para, 20, 21 It, Z, trattino basso, Sunny, Gamers, 123 poi, vabbè, Giorgini, trattino basso, 08, una nostra amica Mila, eccola, Mila, trattino basso, 14, Gikes Luciano, 90, 98, 71 e poi ragazzi, la mia amica si chiama Melita, trattino basso, Vila però, lei non può accettare le amicizie quindi magari se le mandate, alcune le può accettare perchè sennò poi, troppe, tipo ragazzi io sono a 198, friendo qui e, raga, mi se ne state mandando un sacco quindi ora non le posso più accettare se qualcuno non gioca me la può togliere perchè se non giocate date il posto agli altri, ecco però io per ora non le posso come dire, accettare Doggy è la migliore, grazie grazie per tutto allora, grazie a Mila grazie mille mi saluti, ho già salutato tutti ti adoro, grazie ok, eccoci qui, siamo tutti insieme allora, Doggy mi saluti, come si chiama? si, si ho salutato, salutato tutti ho salutato tutti facciamo qualche missione? lasciatelo stare, poverina ma tanto, è un video con i fan quindi, Doggy stai reg stai reg e, allora, ragazzi grazie per i regali che mi fate un sacco cioè, sia quando non sto registrando che quando sto registrando grazie, grazie mille a tutti e dovrò fare cioè, farò un video saluti perchè l'ho fatto con Eli e erano da salutare tanti quindi, lo dovrò rifare perchè, certamente sono da salutare un sacco di altre persone quindi, state tranquilli perchè io ce li ho tutti iscritti quindi ok allora eccoci qui facciamo qualche missioncina eccola qui ciao Clara ciao allora non so perchè ho urlato allora, ma ok ciao aspettate tanto che loro forse non la conosceranno lei è una mia amica e che dico lei è una mia amica ok ok aspetta Clara dove sei ecco lei è una mia amica lei dove sei ecco scusa se ti distruggi ma posso una domanda ciao comunque ciao sto reg che magari magari non lo so allora aspetta adoro la tua voce grazie allora aspetta no non posso accettare le non le friend doggy un'offerta per una potion no un'offerta ma devo salutare un'area ah shirai 24 01 ok perfetto non accetto le come dire sarebbe non accetto le famiglie quando magari gioco con Eli Tony Clara perché come dire poi prendete l'imbreggio pet ecco yeah allora aspettate saluto anche Nora Pro 11 che è una mia amica una nostra amica adoro la tua voce thank you tutto che questa quando dico thank you mi ricorda thank you for the happy vabbè ancora mi viene il copyright chi sei vabbè questa non è una fan aspettate la vinuzza 14 di cosa parlo il video gioco con i fan non so questo video quando uscirà ma secondo me non so perché ho questa varie impressione ma quando uscirà l'evento lunare sarà finito quindi scusate sei famosa non lo so sinceramente spero con tutto il cioè per me sono famosa ora per me è comunque un traguardo spero sinceramente no dicono si spero sinceramente che quando pubblicherò questo video sia cioè il canale sono arrivata ecco a 500 iscritti quindi speriamo 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 allora vabbè qui c'è una girl Jennifer fake vabbè perché non si chiama neanche girl Jennifer cioè si chiama questa aspettate questa sono io z ok stare con ellie no però ellie è nel server come maryenn vero si poi magari facciamo un video con maryenn ellie si dai perché non lo faccio da un po' di tempo allora facciamo queste missioncine comunque ragazzi se magari alle volte non rispondo perché magari sto registrando oppure sono afk quando sto registrando quindi non vi cioè non iniziate a dire ci sei i doggy i doggy i doggy perché magari lascio aperto e mi allontano quindi sbagliate volte sono afk ma apriamo una tiger no o una tiger box no per favore per favore no ok ragazzi oddio ma quante prodotti ci sono si apriamola in no non in un altro video magari magari ora no magari ora no perché sinceramente già di soldi non sto messo molto bene ok oppure facciamo un giro in mongolfiera andiamo andiamo in mongolfiera si mi va angelica ed emanuela saluto anche angelica ed emanuela e poi è entrata un'altra ragazza ragazzo non lo so sarebbe vera jansante dodici ok ok doggy puoi vedere casa mia magari quando non registro facciamo così la vedo la vedo allora andiamo aiuto aiuto no devo partire aspetta non partire no help ok eccomi chi è elisa elisa 500 non so chi si chiama lasciamo stare allora ok ok nenni sono ehi beh vedete casa mia dopo dopo perché quando registro non posso vedere tutte le case perché sinceramente ragazzi se vedo una casa le devo vedere tutte come se devo fare un video soltanto con uno di voi devo fare un video magari con tutti allora vediamo un po' e con questo ragazzi facciamo il giro nel mongolfiere e poi il video finisce qui comunque grazie perché ogni giorno diciamo giocate con me tieni doggy ma chi è non ho capito ah anche gamera norl ok ok io doggy aspettate avevo chiesto prima dopo allora ecco qui clara che certamente città di trasporta ok i doggy sono passata salutati un attimo posso pagare io? ok pago io pago io pago io no non ho pagato io volevo fare la cosa ah chi ha pagato non ho capito clara cadi doggy è vicino a me no vabbè no vabbè sclero no ok clara è lì ciao 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 sto reg iscriviti al canale del mio amico ti iscrivi al canale ragazzi tipo anche per questo non posso iscrivermi al canale magari di vostri amici sempre la scusa cosa perché come dire se aiuto se mi iscrivo a un canale mi devi iscrivere a tutti vabbè comunque su youtube ok siamo tutti si iscrivetevi al suo canale e cliccate sulla campanellina si si il canale di doggy è bellissimo grazie allora ragazzi iscrivetevi e lasciate un like brava clara brava brava allora ragazzi ok grazie a mila che e commentate certo lasciate like grazie a mila che ha diciamo preso questo volo per 5 bucks e io ragazzi finalmente che sono con tutti questi fan grazie ancora per la compagnia e iscrivetevi al canale tappate la campanellina per non perdervi nessun altro video grazie per tutti i complimenti io vi adoro e ciao ragazzi un bacione ciao anche clara vi saluta ciao